serve ragazzi bevuti alla quarta bonus batto di l'evento showdown the five dooms qui dobbiamo affrontare Atomos è un boss prettamente magico che inizia la battaglia mette noi gli doom molte i sottacchi magici fastidiosi, lui può fare anche i dati percentuali tipo gravigia su tutta la squadra tra gli obiettivi abbiamo non potersi un personaggio e doom la sua difesa, qui ciò vuol dire che un boss boss non sia tosto però io di solito prediligo ridurre la fonte di tanti che le difese infatti ridurre le difese ho solo il full break visto che mette doom dovremmo andare veloci non non il cittadino se lo meno arno la passato dopo questo è un altro stato dopo nessuna bella costo ok i totalmente danni ci sono mince per questo è lo scarso questo è il suo attacco più potente vediamo un po' vabbè dai con un po' di riduzione lo stone skin non ha fatto niente in questa battaglia allora una sinergia ai personaggi con knight 5 vabbè penso che ormai sia proprio slow salvo azione spiegata avrebbe forse la shot è finita ma è molto uguale ma non mi è sembrato per niente complicato vabbè con questo team tutti 80 avrei voluto vedere se era complicato però comunque non è sembrato niente di che ho fatto fuori praticamente niente tutto che l'ho rallentato grazie a tutti a breve si escono al prossimo grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti